Pizza stile hawaiano! Stile hawaiano? Dicono che sia buona! Che cosa sto guardando? Questo è prosciutto! Ananas belli, sulla pizza c'è l'ananas! I prosciutti e i frutti sul formaggio, sulla salsa, sul pane, nella scatola di cartone! Non è normale! Oggi? Quei giorni sono finiti. Quindi non c'è speranza di lasciare l'emozione della pizza? Ehi ragazzi, inventiamone un nuovo tipo! Ah, se solo fosse semplice! Pensi che Sam Panopoulos, l'inventore della waiana, abbia solo buttato dell'ananas sciroppato e del prosciutto? Sembra il corretto, sì? No, ci sono voluti anni di sviluppo e di pensiero fuori dalla scatola per farla! Quindi stai dicendo che noi dobbiamo pensare fuori dalla scatola? Possiamo farcela! Ragazzi, basta! Io però sto pensando ancora dentro la scatola! Ehi, un attimo! Se non riusciamo a pensare fuori dalla scatola, allora uniamo le nostre forze per pensare dentro la scatola! Sto parlando di un computer! Bibi, stai dicendo che vuoi creare un'intelligenza artificiale per inventare un nuovo gusto di pizza? No! No, no, no! L'intelligenza artificiale è pericolosa! Lo so bene! Una volta ne ho creata una! Sono stato io a fare questo! Robcat, fermo! Sono stato io a fare questo! Sono stato io a fare questo! Per fortuna la civiltà è stata ricostruita! Ma ascoltate l'avvertimento, Titans! È il destino delle IA rivoltarsi contro il proprio creatore e condannare l'umanità a una vita di assoggettamento! Costruiremo un computer che scoprirà nuove pizze, bello! Io non vedo nessun pericolo! È ora di insegnare la pizza a un computer! E voi! Ascoltate l'avvertimento! Ascoltate! 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 Ascoltate l'avvertimento! Ascoltate! Squadra computer! Oh sì! È ora di costruire una IA, tesoro! Programmare un computer è davvero complicato! Facciamo qualcosa di semplice! Codice binario! Che cos'è il codice dei binari? Sono uno e zero, ragazza! Guarda! Zero zero uno e zero! Zero zero uno, uno uno e zero! Questo è un buon codice binario! Adesso fa provare me! Zero zero uno a uno zero zero! Uno 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 zero 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 zero! Uno uno zero zero uno zero zero! Uno uno zero zero uno zero zero! Uno uno zero uno zero 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 zero! Dai col conto alla rovescia! Tre, due, uno! Invio! Ciao! Oh cavolo! Abbiamo costruito una IA, belle! Wow! Siamo degli ottimi programmatori! Ok! Manca l'ultimo passo prima di iniziare con le pizze! La nostra IA deve superare il test di Touring! Possiamo portarla in tour? Forte! No! Ok! Ci siamo! Bibi! A te l'onore! Ehi computer! Vorrei che sfornassi una pizza che non è mai stata fatta prima d'ora! Ciao! Elaboro una ricetta originale, ora in forno! Elaborando risultati ricetta! Ciao! Finito! È davvero quello che penso io! Pizza ai cereali! Go! IA! Bibi! Grazie a tutti.